ciao a tutti benvenuti e bentornati in questo nuovo video interattivo volevo subito ricordare che questi sono degli interattivi e come tali adottate ciò che le carte vi comunicano alla vostra situazione attuale e al vostro settore di interesse che esso sia amore lavoro fortuna famiglia o personale i video hanno validità dal momento in cui se ne prende visione anche se la data di pubblicazione è già superata dal momento in cui si prende visione tranne quelli che hanno riferimenti o date a un periodo specifico per i video sullo zodiaco il mio consiglio è di ascoltare anche il tuo scendente il segno dove si trova la luna nel tuo tema natale per tutto ciò che riguarda le tue emozioni le intuizioni e ciò che senti dentro di te il segno in cui si trova giove per il lavoro il denaro la carriera le ambizioni gli obiettivi e ciò che si realizza in maniera concreta il segno in cui si trova venere per la famiglia l'amore i rapporti con le persone sia quella che quelle che già conosci sia per quelle che conoscerai si eseguono rituali di purificazione energetica contro malocchio negatività invidi e gelosie con stampa digitale personalizzata da scaricare gratuitamente stampare le letture di cartomanzia personalizzata ricerca e spiegazione del proprio numero personale numero del destino attraverso la data di nascita ed il nome per sapere il tuo scopo in questa esistenza evolutiva dell'anima e cosa significa il colore della tua aura e quali benefici porta alla tua persona attivazione delle rune magiche per ogni vostra esigenza con possibile stampa digitale su richiesta da scaricare gratuitamente e stampare per ricevere tutte le info necessarie e procedere a come fare per avere tutto ciò di cui si ha bisogno sotto ogni video trovate i miei contatti numero whatsapp solo messaggi e indirizzo e mail vi ricordo che tutti i servizi da me offerti sono su prenotazione grazie per l'attenzione vi lascio alla visione del video allora iniziamo subito con i nostri primi tre segni che sono appunto i segni di terre sono toro vergine e capricorno prima vedremo sempre in linea generale quello che è il messaggio per l'elemento e poi andremo a vedere singolarmente segno per segno sia un messaggio dei nostri tarocchi degli angeli e sia appunto quale porta si aprirà segno per segno andiamo subito a vedere che cosa hanno da dirci i nostri oracoli per quanto riguarda l'elemento terra e i nostri tre segni bene se si è girata subito da sola allora abbiamo come oracolo per i segni di terra abbiamo il tamburo andiamo a vedere qual è il messaggio del tamburo l'invito qua ci parla di invito appunto allora l'invito è allora inanziato vediamo l'essenza il ritmo del tamburo vi mette in sintonia con il cuore pulsante dell'universo la sua struttura di legno vi collega agli alberi e vi aiuta nel viaggio verso il mondo inferiore tramite le radici e verso il mondo superiore tramite i rami la pelle del tamburo dà allo sciamano i poteri del regno animale suonare il tamburo evoca il potere del tuono e il rombo del terremoto il tamburo invita a uno stato di trance in cui si verificano guarigione e profezia vediamo l'invito il tamburo vi invita a compiere il prossimo audace passo del vostro cammino le forze del cielo e della terra sono allineate dietro di voi a sostenere un'azione agevole non è tempo di procedere controcorrente il fiume vi porterà proprio dove volete andare basta saltarci dentro radunate i vostri strumenti di potere fate quello e fate appello al coraggio perché sarà un viaggio splendido lasciatevi trasportare dal ritmo di ciò che nella vostra vita è davvero essenziale allora in in sintesi il tamburo vi sta dicendo che è il momento che fate suonare il non forzare niente voi dovete semplicemente lasciare che tutto scorra per come lo scorrere del fiume ecco non dovete andare controcorrente non dovete cercare di ostacolare la forza delle acque la forza del momento che state vivendo ma semplicemente vi dovete buttar dentro e dovete fare in modo che la corrente vi porti dove siete destinati ad arrivare vediamo un po che cos'altro ci dicono queste carte per quanto riguarda il l'elemento terra e i nostri tre segni di terra vediamo un po che cosa ci vogliono dire queste carte allora abbiamo abbiamo l'amore abbiamo i messaggi abbiamo dei messaggi in arrivo in arrivo per quanto riguarda l'amore e abbiamo anche qualcosa che può riguardare come dire un giudizio che può essere legato a un giudizio proprio di come dire non solo una sentenza di separazione un qualcosa che riguarda appunto potrebbe anche essere amore inteso come affetto è come affetto familiare potrebbe anche riguardare non so un'eredità il lascito di una casa perché qua mi parla appunto di una sorta di come dire di evento che sta per arrivare nella vostra vita e che per un attimo diciamo vi tenderà a sorprendere vi tenderà a sorprendere perché c'è appunto la possibilità di un'entrata di denaro inaspettato che potrebbe riguardare sia una sentenza a livello di di tribunale di eredità perché qua mi arriva l'arrivo di un messaggio allora quei messaggi potrebbero essere potrebbe essere uno soltanto che riguarda un qualcosa che di una persona a voi cara però potrebbe anche riguardare sia un messaggio che riguarda appunto questa sentenza di tribunale questa eredità ma anche messaggi che riguardano la sfera sentimentale adesso andiamo a vedere che cosa ci dicono i miei oracoli per quanto riguarda i segni di terra vediamo ancora che cosa ci dicono allora ombre magari questa è una situazione che voi state aspettando da tempo magari c'è stato un blocco c'è stato un fermo c'è stato qualcuno che si intromesso e magari ha bloccato un pochettino la situazione ma adesso appunto come ci dice la carta del tamburo tutto sta ricominciando a scorrere e si è bloccato il tutto perché fra voi e questa situazione o questa persona c'è stata appunto una sorta di incomprensione vediamo cos'altro ci dicono appunto gli oracoli vedete c'è stata l'illusione come se voi speravate che tutto potesse andare bene in quel momento invece la sentenza oppure questi messaggi che non sono arrivati è stata come un'illusione come se tutto si potesse come dire sviluppare ecco in in quel momento ma invece tutto si è andato a bloccare infatti c'è stata una separazione cioè tutto si è fermato e qua mi riporta di nuovo la carta dell'amore perciò per quanto riguarda i segni di terra qua mi parla di messaggi per quanto riguarda sia del denaro che sta per arrivare sia del denaro che vi sta per entrare perché ci sono state anche delle incomprensioni sia per quanto riguarda l'entrata di questo denaro che ha portato appunto al trascorrere del tempo a dei blocchi a degli intoppi ma anche per quanto riguarda la situazione amorosa c'è anche uno sblocco in quel senso vediamo adesso che cosa ci dicono le sibille per quanto riguarda i segni di terra allora vediamo un po che cosa ci dicono per quanto riguarda i segni di terra allora vedete qui voi ci stavate male ci stavate male perché avevate perso proprio le speranze che questa situazione si sbloccasse invece abbiamo la fortuna abbiamo il trionfo in ogni impresa fortuna vantaggio desiderio esaudito è un qualche cosa che voi speravate e che non si è avverato in quel momento ma si sta per avverare in questo e abbiamo mercurio mercurio che ci riporta appunto al messaggio alle novità alle notizie al rinnovamento a eventi inattesi e comunicazioni importanti che stanno per arrivare appunto ai nostri segni di terra toro vergine e capricorno tutto quello che sembrava bloccato ecco che si sta appunto per sbloccare sta per arrivare alla vostra porta uno sblocco adesso vediamo segno per segno che cosa ci dicono le carte per quanto riguarda sia il messaggio e sia la porta allora come primo segno abbiamo il toro vediamo che cosa ci dice la carta dei nostri angeli e dei nostri tarocchi degli angeli per quanto riguarda il segno del toro vediamo vediamo un messaggio per il segno del toro vediamo un po' ok allora per il nostro segno del toro abbiamo oh mamma mia ma quanto è bello asso di emozione questo è l'asso di coppe questo che rubino annuncia una nuova magnifica esperienza emotiva forse incontrerai qualcuno che ti farà battere forte il cuore o la tua relazione attraverserà un momento un nuovo momento magico è possibile anche che aprendo il cuore la tua capacità di intuizione e le tue capacità di intuizione aumentino notevolmente e sempre per il segno del toro vediamo a proposito di porte qual è la porta che si aprirà per il nostro primo segno di terra allora vediamo un po' andiamo a vedere ho la porta del paradiso addirittura vediamo questa porta che cosa ci indica la porta del paradiso realizzazione dei desideri felicità pagamento vittoria raggiungimento di traguardi la carta della porta del paradiso in assoluto la migliore carta del mazzo a livello divinatorio essa presenta delle affinità con la carta del mondo dei tarocchi poiché entrambe indicano il successo e la realizzazione dei propri desideri la porta del paradiso predice che in tempi abbastanza brevi il consultante otterrà ciò che desidera e quindi la sua domanda avrà esito positivo se riguarda il lavoro la carta ci dice che l'attesa è finita e troverà finalmente il lavoro che stava cercando la carta può anche indicare che se egli ha già un lavoro ma desidera un cambiamento di posizione o di ruolo lo otterrà a breve in ambito sentimentale la carta è fortemente positiva poiché indica la realizzazione del proprio sogno e delle proprie speranze la persona che ci interessa ricambierà i sentimenti e li manifesterà oppure se la coppia è già formata è probabile che ci sarà un matrimonio una convivenza o addirittura anche il pensiero di avere un bambino questo è per quanto riguarda il nostro segno del toro adesso andiamo a vedere per la vergine vediamo che cosa hanno da dire i tarocchi degli angeli per quanto riguarda la vergine vediamo che carta viene fuori oh mamma mia troppe 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 ok allora abbiamo il quattro di emozione sei circondato da persone meravigliose che desiderano aiutarti le opportunità divengono offerte ma non sei in grado di notarle e non ti fidi dei doni che il ti manda guardati attorno sognare a occhi aperti o l'introspezione sono metodi sani per fare chiarezza dentro di sé a patto che tu agisca per realizzare concretamente i tuoi desideri perciò qua la vergine si deve un po dare da fare nel cercare di realizzare ciò che desidera vediamo qui che porta si apre per la vergine ok abbiamo l'arco trionfale per quanto riguarda la vergine allora vediamo vittoria successo ambizione coronamento di un sogno viaggio trasferimento riconoscimento onori la carta dell'arco trionfale è una delle migliori del mazzo e se infatti predice successo riconoscimenti e grandi soddisfazioni per il consultante se la domanda riguarda un progetto specifico al quale il consultante sta lavorando la carta ci dice che il successo è garantito e arriverà a breve riguardo al lavoro la carta può rappresentare promozioni un aumento ma anche un cambiamento di ruolo un significativo avanzamento di carriera anche in amore la carta è simbolo è molto positiva essa annuncia infatti che i sentimenti del consultante sono corrisposti addirittura vi è l'arrivo di una proposta di matrimonio convivenza la carta può anche rappresentare come il carro dei tarocchi uno spostamento un viaggio persino un trasferimento si tratta di un ottimo presagio in ogni ambito nella vita del consultante perciò cari vergine aprite le braccia e accogliete quello che sta arrivando nella vostra vita e adesso andiamo al capricorno vediamo che cosa c'è per il capricorno qual è il messaggio dei nostri angeli vediamo per il capricorno se viene fuori qualcosa o se la prendiamo noi allora abbiamo fuori il vecchio dentro il nuovo il cielo vuole dirti che è tempo di cambiare direzione perché sei infelice e senti di non avere uno scopo nella vita è un campanello d'allarme per indurti a intraprendere i cambiamenti che soddisfano i desideri del tuo cuore e della tua verità spirituali perciò aria di cambiamento per quanto riguarda il capricorno vediamo se confermano le porte di queste di questo bellissimo mazzo vediamo se confermano questo cambiamento ho venuta fuori una ho la porta dell'ade guardate questa nei nei tarocchi è la morte perciò la trasformazione e la porta dell'ade sappiamo che ade appunto è il custode sempre degli inferi vediamo che cosa ci dice questa porta allora stasi bilancio cambiamento subito malinconia senso di perdita conclusione di un periodo anche qui si parla di cambiamento la carta della porta dell'ade rappresenta alcune analogie con l'alcano della morte dei tarocchi infatti è uscito proprio questo come la carta dei tarocchi infatti anche la porta dell'ade si serve dell'idea spaventosa della morte per evocare in realtà un concetto molto meno terrificante il cambiamento la porta dell'ade indica la conclusione di un periodo un taglio di rami secchi nella propria vita un momento di bilancio di stasi prima di poter ripartire si tratta di un cambiamento forte e netto e per questo può creare una sensazione di malinconia per la fine di qualcosa di perdita persino perfino di fallimento ma si tratta di una situazione transitoria il cambiamento in questione pur se all'apparenza può sembrare negativo o traumatico in realtà si rivelerà non solo necessario ma anche positivo in quanto parte di un processo di crescita e di rinnovamento preludio di una rinascita bisognerà perciò incoraggiare il consultante a viverlo come la premessa necessaria per iniziare il prossimo capitolo della propria vita questa è una cosa molto particolare per il capricorno perché abbiamo in poche parole come se fossero uscite due volte la carta della trasformazione sia per quanto riguarda i tarocchi sia per quanto riguarda le carte la porta che rappresenta questo mazzo bene cari segni di terra io vi ringrazio per aver visto il video mi raccomando vi aspetto nei commenti e ci vediamo alla prossima